Musica E ragazzi come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef e che si giochiamo a GTA V E finalmente siamo tornati ovviamente nella nostra serie sull'online E finalmente dopo una fatica incredibile Siamo riusciti a farmare i soldi che ci serviranno per comprare la prima attività del club Esatto, ricapitaliamo un po' quello che è successo Se vi ricordate l'ultimo video che avevamo fatto era una challenge su GTA Vi è piaciuta parecchio? Ne siamo davvero felici? Però l'abbiamo persa Quindi avendo perso quella challenge ci siamo giocati i 600.000 dollari che avremmo vinto completando quella challenge E di conseguenza li abbiamo dovuti farmare Sono arrivato dal livello 25 al 35 Ho 750.000 dollari E li abbiamo fatti con la nuova modalità che hanno messo Che mi pare si chiama tipo vendetta a due ruote Vendetta a quattro ruote Una roba del genere Partiamo subito comprandoci la nostra prima attività Ci avete consigliato di comprare la seconda e non la prima Che costa leggermente di più Per quello 750.000 E non ho idea di che cosa ci permetterà di fare Sinceramente magari la compri e non succede nulla Ci rimango malissimo No io spero che ci sia qualcosa da fare Tipo missioni o cose particolari Perché altrimenti se la compriamo non c'è nulla da fare Ferini che ammazza qualcuno oggi Vero? C'è già questo consolino qua No poi i consolini No non ti sfogherai sui consolini Il primo che vedi ci passa Un po' di russi nella sessione Magari veda loro A prenderli a cazzotti Palito benone dove siamo noi? O mi sto confondendo? Non mi ricordo il nome Nel caso fa molto comodo Quindi 732.000 Sono sicuro di volerlo acquistare Acquisto effettuato Ok E adesso? Boh Avevo ragione E qui a fianco Anche quello dei documenti falsi Andiamo a vedere dai È la cittadina perfetta Andiamo a piedi Facciamo una passeggiatina Qui Guarda che bellino Bellino Non proprio bellino Eccolo Vedi? Eh vabbè dai Adesso anche questo è nostro Allora per il prezzo che ha Mi aspettavo qualcosa di un po' più moderno Un po' più messo Io ti vorrei dire Invece c'è tipo tutto Lo so Che ti arrabbio ogni volta Che faccio partire un hashtag Per ogni una bellissima No allora Allora stiamo scocciando No ti prego Ti prego Questa merita davvero tanto Oh mio Dio questa macchina Che cosa? Eh guarda che bella Dov'è? Oh dietro Eh ma il consolino è pieno di cose Ma è fighissima Bellissima Ti prego la vorrei troppo nella vita Io questa macchina Cioè prima di andare in giro così Allora stavi dicendo Che hashtag dovremmo fare? Il re di Palito Bay Il re? Sì Perché se ci pensi In questo momento In questa cittadina Che è Palito Bay Abbiamo due case Un club di motociclisti E adesso pure Un'attività di documenti falsi Cioè se non siamo noi Il re di Palito Bay Chi lo è? Ormai abbiamo conquistato la cittadina Esatto Le cambieranno il nome E quindi siamo il re Si chiamerà Feriniki Bay Solo il mio Perché il tuo ci sarebbe Ma cioè non è che puoi dire Steph è Feriniki Bay E allora mettiamo solo Steph No perché Palito è un po' lungo Quindi Feriniki ci sta meglio Feriniki Bay Guarda ringrazio che ti sto permettendo di entrare Voglio il nome della mappa di GTA Questo è il tuo stabilimento Per la falsificazione dei documenti La produzione resterà sospesa Finché le scorte e l'attrezzatura necessarie Non saranno state individuate e portate Non appena sarà a regime Il tuo MC potrà produrre e vendere documenti falsi Ma qui non siamo solo dei motociclisti No siamo Siamo di tutto fare Aspetta continua Accedi al sito The open road Amministratore da questo portatile Sicuro per mettere in moto L'attività del tuo stabilimento Il sito ti permetterà di individuare L'attrezzatura e le scorte necessarie Per avviare la produzione Ma qui sono cose complicate Cioè Qua si fa sul serio ragazzi Oh ma che figo il posto Dimmi che sei entrata No a me sta ancora facendo tutto Ah ok I dialoghi che tu hai già visto Un po' asco più ritardato Eh sì perché sono entrata dopo di te Quindi ecco Ecco ti Guarda che bello Allora merce scorte valore Quindi vedi che dobbiamo fare delle cose Sì Dobbiamo recuperare delle merce Ma che belle Vabbè queste scriviglie fanno un po' schifo Abbiamo il nostro ufficio personale Viaggiare comodi e in sicurezza Con i consolini Che ci portano esattamente dove dobbiamo andare Con l'elicottero Comunque ci hanno dato una missione Di andare a recuperare del materiale Appunto per i documenti falsi Esatto A dieci chilometri da dove eravamo Ma il consolino ci dà un passaggio in elicottero Direi che con l'elicottero Guarda è molto più comodo No E questo che farti dieci chilometri Ok dobbiamo recuperare le scorte Le viste No E sono credo qui da qualche parte Allora La mappa me le segna qui Prese 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 Consegna la borsa allo stabilimento Ci dobbiamo tornare Ah ringrazio che abbiamo il passaggio in elicottero Ma cioè siamo pazzi Io pensavo dovessimo venire qua Almeno fare capito Un po' di sparatorie Anche io Cittadino Un po' di cose Anche io No Invece prendi la borsa e torni Ma qualcosa ci sta sparando comunque Perché ci sta sparando Vedi da quella macchina nera Ci stavano cercando di uccidere Però noi siamo scappati in elicottero E li abbiamo fregati Ah probabilmente vedi È la missione Sicuramente arrivavano quelle a farti fuori Ma noi abbiamo gli elicotteri Eh ma noi qui due consulini Ci facciamo trattare bene Capito Ci trattano come se fossimo dei VIP Che in effetti poi siamo i VIP di Palito Bay Giustamente Esatto Vedi Dobbiamo ricevere un trattamento adeguato No? Manca soltanto il superjet E quello dove puoi anche bere i drink Voglio dirlo che poi tutti i consulini Vengono a prenderci col superjet Grazie consulino Il suo passaggio è stato comodissimo Grazie De Simo Torniamo dentro Allora la produzione di documenti falsificati È stata avviata Yeee Facile Ok questa è l'area di produzione Qui è dove verranno falsificati i documenti Non appena arriverà il personale Cioè avremo anche dei dipendenti? I documenti falsificati verranno prodotti E poi magazzinati in quest'area di deposito Per mantenere il regime e la produzione Occorrerà usare le scorte La produzione si fermerà Se l'estabilimento si riempie di merce in venduta O se le scorte vengono esaurite Ci saranno comunque dei costi da sostenere Quindi visita regolarmente l'estabilimento Per tenere l'occhio a gestire E' difficilissimo Io ho una teoria Ok dimmi Secondo me visto che in questo momento è notte Non viene nessuno a lavorare Perché ovviamente i lavoratori sono degli NPC Cioè degli abitanti del gioco normale Beh non penso che devi invitare giocatori reali Altrimenti devo stare tutto il giorno all'anno E secondo me essendo notte Loro stanno dormendoci Quindi non vengono a lavorare Dobbiamo aspettare semplicemente di mattina E loro inizieranno Ok A produrre la merce Lo spero Lo spero La mia idea è Ci facciamo una missioncina Del nostro bellissimo club Perché ogni tanto abbiamo bisogno di farne Soprattutto io sono poverissimo E ci servono soldi per i tatuaggi Dopodiché andiamo a ricontrollare Perché a quel punto qualcosa avranno combinato Sì dai buona idea Mi sembra la cosa migliore Quindi Ma tu sei salito in macchina E io sono sola Come non so che cosa No io sono al club Come hai fatto ad arrivare al club Correndo Ok vabbè corro pure io Ti propongo Allora Le varie opzioni che abbiamo Motoscorta Piromania È l'arma perfetta Piromania mi intriga Cosa bisogna fare Credo Troppo complicato Oppure no Piromani Ho gente disposta a spaccare tutto Esperienze in magazzini È un plus Ci sono casse da bruciare I clienti non si assumono responsabilità Di eventuali ustioni Siamo arrivati Ci siamo Credo che ci siano delle persone da sparare Quindi stai attentissima Allora Io ho notato che ho delle bellissime molotov Quindi sicuramente ci serviranno Per bruciare le munizioni Io vado a molotov Aia mi stanno sparando Non capisco niente da dove Aspetta aspetta Nasconditi Chi vuole morire oggi Ok 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 Ne ho battuto uno Però non mi segna Nella minimappa i nemici Perché mi segna le casse appunto Anche a me non li segna Ed è buio pesto Devo andare un po' a sentimento Aia chi mi sta sparando Un sacco di gente E mi hanno ucciso No 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 Ah no ma c'è anche un player Accidenti ma proprio qua Ho tirato fuori l'arma Che mi ha regato il consolino Sono pronto a mitragliare Ma te la trovo più Accidenti dove me la metta Ucciso Dove l'altro E che cavolo Almeno in questi casi Dove l'altro Dove l'altro Eccolo Ok è morto È morto È morto Allora adesso provo a mettere la molotov E a bruciare qualche scortale Mentre il consolino ci sta coprendo Mi sono rimessa l'arma Che mi ha dato il consolino La stavo cercando Perché sai che te le cambia Capito È perché se no non fa Guarda qua continuano ad ammazzarsi Sto facendo esplodere tutto Se ne mancano solo 5 Allora Mi butto una qua Ops Scusi Ci stanno sparando Da dietro Da dietro Da dietro Dov'è Eh sì Non faccio un tempo Niente a mettere il fucile Io Va bene Ammazzami Ucciso 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 Ma davvero Sì l'ho sparato in testa Ho mirato dritta la testa Perché mi aveva rotto le scatole Corro con la molotov Cerco di bruciare l'ultima Sono bassissima Sono bassissima Corri Steph Eccola Cerco di mangiare degli snack Dovrei avercela fatta Sì L'abbiamo completata Ok Ci ha pagato 16.000 Via 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 Ma che via Adesso li ammazziamo Ah dici Che proprio vendetta Vendetta Esci fuori Tutti dentro Forza 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 Allora Entra con i membri Dell'MC vicini Ovviamente 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 Sì ci sono ancora Davvero Aspetta che non ho caricato Ancora caricato Non voglio vedere il tuo Schermo Non voglio vedere il mio Voglio la sorpresa Di vederli a lavoro Però mettiti in prima persona No però devi farmi Eeeh Vabbè Che figata Guardali come falsificano Lei col righello Precisissima Bravissima signora Sembra Non ho capito Quello devi fare i modellini Ce l'hai presente Che usi Questi tappetini Con i quadratini Però stai falsificando Documenti Ragazzi Siete un po' lenti Guarda in basso a destra La vedi la merce Quanta anni hanno fatto Hanno fatto Neanche mettere tangolino Vabbè perché sono solo in tre Capito Però dai abbiamo già Valore duemila Eh appunto Vabbè continuiamo a lasciarli lavorare Abbiamo pagato E credo che vendi il valore Dici Ma magari paga anche un po' di più Vendeli Vedremo Staremo a vedere Staremo a vedere Spero di sì Spero vivamente di sì Perché ho visto dei flash Ah ma c'è anche altre persone Guarda stanno facendo le foto Eh per il documento falso Certo Fantastico Infatti vedevo dei flash Non capivo che cos'era Cioè ma che succede Invece sono loro che si scattano Giustamente le foto Per il documento falso E quindi sono cinque persone Alla fine Sì Ok Sei pronta a una sfida del club Dopo quella di ammazzare i bersagli Abbiamo vandalismo Sui dal tuo MC A chi irrita più poliziotti Guidando una moto E come facciamo? Credo sparando E distruggendo tutto Usa gli attacchi corpo a corpo Da moto Sul maggiore numero di veicoli Attacchi corpo a corpo? Come? Se l'abbiamo fatta In consulina Ho capito Allora X Spacco veicoli Aspetta Quindi io vado qua Ok Sono a uno Non so se valgono Anche quelli parcheggiati Di sicuro valgono Quelli che sono in moto Ma come faccio a farlo? 3 4 Vai Quello della polizia Vale doppio La polizia vale doppio Scusi poliziotto Guarda io non volevo Farla arrabbiare però È la mia missione di oggi Sì sono andata a 50 Conta a 50 La macchina della polizia Se la trovi Spaccala Abbiamo creato Il buttiferio a Palito Bay No incredibile C'è tra la polizia Non so quanta polizia c'è Sono solo che un elicottero Mi sta sparando da due ore Questo avrebbe fatto comodo Da sapere probabilmente Anche per la sfida Delle quattro filine Eh sì a voglia A voglia Certo Quando mi uccidete Sono morto Oh no Sì sono decisamente morto Dimmi che non mi togli Tutti i punti Ti prego Ti prego Dimmi che non mi togli Tutti i punti Ok no Anche a me Non ho appena ammazzato È arrivata questa polizia Con la macchina blindata C'erano i poliziotti Appesi fuori Che mi sparavano Capito Assurdo Però abbiamo creato Il delirio a Palito Bay Per una sfida dei motociclisti Però è giusto I motociclisti Che poi io non trovo poliziotti Perché quelle che ho provato A distruggere Le avevi già tutte distrutte Cioè si sembra Non te le riconta Lo so Devo recuperare la mia moto In mezzo a sto disastro Cioè non ho l'idea Della polizia che c'è qua Nuova polizia Freschi freschi Dieci punti a macchina Dai venite belli Allora Una Dai 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 Voglio anche questa Facciamo con la destra E due fatta Perfetto Voglio anche la terza Mi stanno incastrando Sto rischiando di morire Però devo sfondarle tutte Allora qua ce la macchina della polizia Prova a farla al volo Vai Ferenichi Ce la puoi fare Eh non me la conta Perché non me la conti Forse l'avevo già fatta No 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 Mi stai riaggiungendo Eh vabbè no Non c'è tutta questa polizia Per riuscire a raggiungere Sì ma io la moto fuori uso Quindi in questo minuto Che resta Non credo che riuscirò a fare Neanche un punto Eh No 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 Non penso di raggiungere Devo uccidere Ferenichi Ma dai non è vero Cioè non c'è Non ho così tanto tempo 50 secondi Devo uccidere Ferenichi per forza O io o lei Non può vincere la seconda Ah mi avrei investito la polizia No sono incastrata Brava polizia Cioè mi ha incastrato Bravissima polizia Non hai capito che è successo Mi ha incastrato sotto la macchina Non me ne potevo andare Perfetto Cioè mi ha incastrato la moto Così si lavora Dov'è la mia moto? Ok l'hai vinta? Cosa? Quanto ti ha pagato? 34.000 Cioè mi hai dato 4.000 34.000 mi ha pagato Conta ho capito che è questa sfida Ci mettiamo e la rifacciamo in continuazione Tutti i giorni e tutte le ore Ma anche perché è divertente Sì è divertente Almeno è diversa dalle solite gare Le solite sfide che fai sempre Cioè e poi se noti Quella dell'assassino Quella del bersaglio Cioè sono tutte diversissime Tutte molto divertenti Molto divertenti Figata Bello bello Super promossa Ora sono pieno di soldi Abbiamo 72.000 Quindi direi che possiamo andare a farci il tatuaggio Però dammi un passaggio Perché la mia moto Dove sei? Non si muove più Non c'erano dei documenti Come pensavamo Ovviamente ogni volta ci dobbiamo un po' arrangiare Con un po' di fantasia Esatto Però c'è la matita E con la matita fai i documenti falsi Sì loro in effetti stavano lavorando Tagliendo le cose con la matita Quindi dai Vai Con molta fantasia ci può stare Cioè non è neanche brutto È carino Però è molto carino Molto carino Stiamo iniziando a colorare un po' Anche il braccio destro E poi abbiamo tutti i tatuaggi Super Tamar E poi una matita nell'altro Vabbè È proprio brutto Per essere brutto Ma non dobbiamo essere belli Esatto Dobbiamo sempre commemorare la nostra avventura È quello che volevo dire Cioè l'importante è quello Così poi tu alla fine il trick Guarderai Ah questo l'ho fatto Quando è successo quello Ho capito Come quando racconti le storie Nipotini da vecchio Insomma Non provare a toccarmi Che ti sparo No nessuno l'ha fatto Allora Vuoi fare a gara Che ha il fucile più gigantesco Allora Stai lontana Dai Ammazzo da golf ti picchio Quindi stai fermo Che bello quello che ti hanno dato Lo so Comunque ragazzi Per questo video Ci fermiamo così Speriamo che vi sia Vi siate Di volta sbaglio l'altro Ormai Che vi siate divertiti Con questo video È stato davvero fantastico Non mi aspettavo una roba così figa Per l'organizzazione Nel prossimo episodio Speriamo di poter vendere La merce Che i nostri Diciamo Lavoratori Stanno producendo in questo momento Decisamente Speriamo di poter vendere I documenti falsi Sarà una figata pazzesca Ovviamente Registreremo anche La prossima challenge Abbiamo in mente Una cosa davvero particolare E divertente Soprattutto questa volta Io e Ferinichi Saremo contro Quindi saremo Uno contro uno Chi vince Si tiene i soldi L'altro rimane Esatto Con nulla in mano Quindi sarà davvero Una figata Beh ragazzi Se riusci a uscire il video Ci dici un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare Il video di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao